Papa Ratzinger ha deciso di abdicare il suo pontificio e noi all'indomani di questa decisione storica che porterà il Vaticano dal prossimo 28 febbraio alle ore 20 ad essere vacante siamo andati a chiedere ai cittadini cosa ne pensano è una questione sua di chiese, di salute, ho sentito quindi penso che ci sarà un motivo serio per arrivare a una decisione così importante avrai su buoni motivi sì, negli ultimi tempi francamente era un po' stanco, si vedeva che era stanco però penso che ci siano pure altre questioni dietro a questa scelta credo che se lo ha fatto avrà ritenuto che non aveva più le energie per poter sopportare un peso così grande io credo questo, mi sembra un gesto di grande dignità secondo me c'è avuto un bel coraggio e bisognerebbe prenderlo per esempio non solo per quello che è la chiesa ma anche per quello che è il governo stesso se magari qualcuno ne prende esempio è un atto di coraggio secondo me ha fatto bene perché la chiesa ha bisogno di qualcuno come dicono loro giovane che riesce a venire anche in mezzo alla gente lui purtroppo non ce la fa e è giusto che abbia preso questa decisione e finalmente anche il papa diventa un po' più terreno non è più illuminato dallo spirito santo ma dai dolori fisici che ha e quindi è giusto così credo che sia soltanto uno scarico di responsabilità perché secondo me non ha neanche fatto in questi otto anni neanche un buon pontificato assolutamente per me come condizione di abdicazione opinabile veramente ma io sinceramente non è che credo molto a quello che è successo cioè nel senso che non credo che sia stata di sua volontà che abbia scelto di abdicare consigliere cosa pensa della decisione presa da Benedetto XVI di abdicare una sua opinione personale personale sarà una grande mancanza perché anche lui come gli altri è un grandissimo papa e in un periodo per quanto riguarda il livello mondiale internazionale di crisi e di problematiche è un grosso problema aspettiamo cosa dirà il Vaticano per me è una grossa mancanza credevo in questo papa è una bravissima persona capace non so che dire rispetto alla sua decisione sicuramente sarà una grande mancanza una grossa mancanza per noi fedeli soddisfatto dell'operato di Benedetto XVI? sì io purtroppo l'ho seguita poco in questo periodo ho seguito più Voidila e mi ha fatto tanto tanto effetto la sua morte e Benedetto XVI secondo me aveva un un incarico come si dice un predecessore un po' pesante come figura quindi era anche più difficile l'incarico che ricopriva che è soddisfatto quindi dell'operato di Papa Ratzinger di questi otto anni? certamente bisogna considerare anche il suo operato in un sistema stato stravolto in questi anni successo di tutto poverino il grande papa si raccomandava a risolvere grandi problematiche umanitarie dalle guerre agli stati alla crisi ai lavoratori a tutto quindi per me è un papa che rispetto e rispetterò anche le sue idee mi entusiasmava più Giovanni Paolo II per il modo in cui ha condotto la la sua missione diciamo gradirebbe più come prossimo papa un altro straniero oppure un papa italiano? beh è normale che un papa italiano piacerebbe a tutti secondo me non sarà italiano perché continuerà il cammino della chiesa nell'unione mondiale io penso che dopo 35 anni sia ora che che si ritorni a un papa italiano io credo mi auguro che sia straniero possibilmente di colore io l'unica cosa che spero che sia un papa molto più aperto e molto più vicino alla popolazione con i suoi cambiamenti che ci sono stati l'evoluzione che c'è stata nell'epoca grazie